Madeo è una filiera agroalimentare cosentina, presenta tre linee di produzione, la linea dei salumi tradizionali calabresi con l'intenso gusto dell'anduia in tutti i formati, della spianata calabra, del capocollo e della ventricina, la linea dei salumi di calabria dop, salsiccia soppressata e capocollo e fiora all'occhiello la linea dei salumi di suino nero calabrese, razza autoctona più che centenaria. Sono prodotti senza glutine, con un alto tasso di omega 3 e omega 6 e quindi con pochi grassi.